Tra le pareti di questa casa, qui a Nazareth, la comunità dei frati minori, custodi di questo Santo Padre, si appoggia di tutta l'umanità, le insieme, e per l'intercezione della Vergine di Nazareth, innata la preghiera di Dio fatto nuovo, per il Santo Padre, per la Chiesa e per vita da riguardo di questo sfruttare e per l'interfondazione, quando si fa come da l'humanità, il nostro corso gratuito è possibile kurtare e per il nostro corso gratuito di questo corso gratuito, che ci scelta tutti i nostri했습니다. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.